Plankton? No, Plankton! Dove pensi di scappar? Perché non te ne vai via di corsa, piccoletto? Prima che io ti faccia del male! Plankton? No, Plankton! Marcia! Vieni giù da lì, piccoletto! Non vorrei farti del male! Ti trovo! Ti trovo dovunque tu sia! Degli occhio! Sto scappando! Pronto per una Planktonnellata di bolle? La formula, se non ti spiace? Andiamo! Unisci di me! Diventeremo ricchi e potenti! No, grazie! Sono già impegnato con un altro team! No! 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 Tutto bene! Allora... Possiamo fare ancora giochi per uno? Sì che possiamo, Patrick! Ma stavolta ci sarà una mano in più nel tutti per uno! Plankton? Oh no! Oh! 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 Eccola qui, Krab! Oh! È tutta tua! Non è che dentro c'è un altro biglietto di insurgiti, vero? No! Quello era il vecchio io! Quello che voltava sempre alle spalle alle cose importanti per avere la formula tutta per sé! Ma ho capito che tenere qualcosa per soddisfare il mio ego... È da egoisti! Specialmente quando quel qualcosa è proprio il Krabby Patty! E va bene, amici! Ritorniamo a Bikini Bottom! Oh no! Ho dimenticato la pagina! No! Devo tornare su quell'isola! Non preoccuparti! L'ho presaglio la pagina! Molto bene, SpongeBob! Portaci a casa! Grazie! Squiddy! Sono bene! È il momento di tornare e riaprire il Krusty Krab! Possibile che tu pensi soltanto ai Krabby Patty? Non me ne andrò mai da qui! Voglio dire, guardami! Io sono divino! No, Squiddy! Tu sei cassiere! Un momento! Cosa? Beh, è stato bello finché è durato! a sarà 발 e robe, lo kitty m'asso domicile essere utilizzato! Se fai vanno Valley V1 Google formato 3 e 4 minutes! Di rai, le puertache di 20 solo nei settimai rim. そjść per il loro dormire! Facilare la giornata, Il v'altra per la tante? Fa traditi Mahlo insieme!